Che culo Riccardo però, eh? No, se fa l'esca, non serio? E la bella, sati, la bella, quella politica, non politica. Siamo in diretta dallo stand La Fiera e la stampa naviga in wifi grazie all'ingegnere Gallo Francesco di Caolecom, il nostro amico Riccardo e la... Siete, ha dimenticato il nome, Giorgia. Giorgia. Washington. E' zona perla. Ciao a tutti. Grazie.